Grazie, non si può che non aggiungere poco a quello che ha già detto Nicola Molteni. I fatti sono assolutamente gravi. Siamo di fronte a una situazione come quella che riguarda la legittima difesa che sta coinvolgendo tutti i nostri cittadini di tutta l'Italia. È qualcosa che è molto sentito. Si ha la percezione netta di una diminuzione di quelle che sono le tutele e una diminuzione della sensazione, la percezione della sicurezza. E di fronte a un sistema dove la criminalità in Italia è quasi agevolata da un sistema di normativa come è stata quella anche dell'ultima quale legislatura dove sono state barate una serie di svuota carcere e di concessioni di benefici di legge a favore di criminali ci troviamo in una situazione allarmistica e difficile che si poteva affrontare e che si doveva affrontare e che la proposta della Lega era assolutamente sotto questo profilo determinante e come diceva giustamente Nicola nemmeno oggetto di eventuali accordi o compromessi questo è il modo di affrontare la modifica della norma sulla legittima difesa o si prevede questa presunzione oppure l'istituto della legittima difesa sarà sempre un istituto che creerà delle problematiche in sede di applicazione parlare di proporzionalità fra offesa e difesa significa dare una discrezionalità in mano anche al magistrato con delle difficoltà poi applicative delle norme la proposta che invece è stata fatta dal PD ignominiosamente mi si passi anche il termine che dove apparentemente si vuole venire incontro a un'esigenza di tutela e di sicurezza alla fine è fatta una norma truffa una norma che imbroglia ed è una norma che creerà ancora problemi e difficoltà interpretative non possiamo che proseguire con questa battaglia che è una battaglia dei cittadini non è un battaglio solo della Lega Nord è una battaglia della Lega Nord per tutti i cittadini grazie grazie